Massimo Fasanelli consigliere del gruppo misto consigliere provinciale ospite di A2x2 per i nostri cinque minuti di approfondimento un tema sopra gli altri intanto lo salutiamo grazie di essere con noi Fasanelli un tema sugli altri quello della riforma delle comunità questa riforma istituzionale secondo lei una buona riforma no a mio modo di vedere no tant'è che ho votato anche contrario credo che la giunta e la maggioranza non abbia avuto il coraggio che avrebbe dovuto avere per fare una vera riforma delle del nostro assetto istituzionale sul territorio qual era secondo lei la vera riforma da fare ma a mio modo di vedere era quella di eliminare questo ente terzo che di fatto è rimasto è vero qualcosa è cambiato rispetto a prima qualcosa sicuramente migliorato però di fatto questo terzo ente questa terzi età tra comune e provincia è rimasta e non credo che questo sia in prospettiva la scelta assolutamente migliore c'è qualcuno che sottolinea come i comuni le comunità che adesso sono aggregazioni di comuni non più non nascono più dalle elezioni dalla volontà del popolo siano comunque degli amministratori demandati dalla provincia visto che poi anche nel protocollo di finanza locale la provincia decide il saldo contabile e da lì non ci si scappa lei come la pensa sì di fatto è così tant'è che la mia criticità che ho espresso anche all'interno dell'aula consigliare è proprio riferita anche a questo tant'è che io avevo fatto tutta una serie di emendamenti dove sostanzialmente chi doveva rappresentare mio modo di vedere questi enti ma non tanto in quanto ente strutturato in quanto gestione di servizi associati dovevano essere semplicemente gli amministratori i sindaci magari senza evidentemente nessun compenso perché ce l'hanno già da sindaci e quindi il mio obiettivo quello che io pensavo come fosse la soluzione migliore essere la soluzione migliore poteva essere assolutamente quella delle gestioni associate di servizi e non tanto di creare un nuovo ente. Allora parliamo invece di un argomento di questi giorni questo tira e molla sulle nomine della fondazione Edmund Mac con il nome di Andrea Berti che è uscito è rientrato congelato per tre mesi insomma non ci si poteva pensare prima a questa visione duale vale a dire un presidente manager che fa quadrare i conti aderente con la realtà provinciale dei contadini ma poi un consigliere con delega alla ricerca che permetta di mantenere questi rapporti internazionali non ci si poteva pensare prima. Ma probabilmente sì peraltro io non condivido neanche questa seconda. Non condivido questa ipotesi che è l'ipotesi sulla quale si sta lavorando. Ma non tanto nel merito allora non vorrei che fosse nata solo per giustificare la nomina di determinate persone allora se gli enti in quanto tali sono nati con delle motivazioni con delle mission come è la fondazione Mac che in particolare è la ricerca con la ricaduta sul territorio queste mission non possono essere modificate. Allora viene individuata una persona e siccome non ha tutte le caratteristiche modifichiamo lo statuto. Beh insomma mi sembra un po' esagerato. Molto politico questo? Evidentemente sì. Abbiamo una domanda che le proponiamo che abbiamo raccolto tra i cittadini. Sentiamo cosa dicono i cittadini. Da cittadino che cosa chiede alla politica trentina? Un desiderio? Un desiderio? Un po' di onestà. Perché non c'era abbastanza ancora? Ma da quello che dimostrano in questi tempi non è che sia in eccesso insomma no perché dovrebbero guardare quello che ricevono gli operai e quello che ricevono... Troppo divario di retribuzioni. Ecco vediamo nessuno naturalmente dà disonesti ai politici a meno che non ci sia stato un processo con i tre gradi di giudizio ma perché c'è questo scollegamento ancora forte fra cittadini e politica Fasanelli? Si sta giocando a mirare la democrazia e i principi democratici perché poi voi siete espressioni di un voto. Ma sì è vero mi viene da dire aggiungerei rispetto a quanto detto dal signore onestà ma non tanto dal punto di vista giuridico io credo che l'onestà intellettuale è quella che deve prevalere ma non solo nei politici ma anche all'interno di tutte le economie le forze lavoro a partire dai giornalisti me lo consenta... L'etica sopra. L'etica, l'etica. Chiaro che voglio dire poi il riferimento diventa anche, non vorrei, il riferimento all'indenità, allo stipendio, il riferimento alla classe operaia è chiaro che quando si toccano questi argomenti è un argomento che all'ordine del giorno effettivamente deve essere considerato all'interno dell'organo politico. Diventa difficile da questo punto di vista sostenere determinate scelte quando appunto c'è di mezzo questo. Noi dobbiamo lavorare affinché tutti abbiano una dignità, una dignità personale e quindi cercare di lavorare per far sì che l'economia in qualche modo inizia a riprendere non è facile però analizzando il nostro territorio e il Trentino in particolare, considerando il turismo, considerando l'agricoltura, le piccole e medie imprese, secondo me qualcosa abbiamo ancora la possibilità di fare, anzi ce l'abbiamo assolutamente e credo che anche il bilancio provinciale nonostante le considerevoli riduzioni imposte, perché dobbiamo dircelo, imposte da Roma, se noi le ottimizziamo dobbiamo essere ancora in grado di cercare di fare qualcosa. Chiaro senza fare da chioccia, mi viene in mente, leggevo in questi giorni, anzi oggi anche Aquafil, il presidente di Aquafil che ha allargato il tormento ma ha aumentato il 10% il fatturato. Ecco, lì è stato bravo a non in qualche modo subire, se si ricorda qualche settimana fa ha detto, se mi imponete determinate cose io rinuncio anche al vostro contributo, dovete lasciarmi libero di agire nell'economia. Ecco, non dobbiamo avere troppa ingerenza e cercare di aiutare le persone e le aziende che in qualche modo hanno la volontà e la voglia di fare. Tante volte si aiuta lasciandoli in pace, o comunque non mettendo i pali tra le ruote. Noi ringraziamo, grazie di essere stato con noi, consigliere Massimo Fasanelli, grazie ancora e ci rivediamo con un altro ospite via tu per tu. Grazie a voi.